Ciao, sono Vina Sunita e in questo video ti voglio parlare di tutte le emozioni che la luce pulsata ci regala. Da molti anni, anzi da decenni ormai, mi occupo di bellezza e benessere e posso dire che lungo tutto il percorso della mia vita professionale ho avuto tantissime occasioni in cui gioire con i miei clienti per i risultati che abbiamo raggiunto insieme. Spesso ho abbracciato persone che all'inizio del loro percorso di snellimento avevano circonferenze tali che le mie braccia risultavano sempre troppo corte per riuscire a trasmettere loro, direi in modo adeguato, la mia vicinanza e il mio sostegno. Oggi però abbraccio persone, ragazze, donne e uomini che sono felici perché ho dato loro la possibilità di scogliarsi davanti al loro partner senza imbarazzo, di andare al mare senza esso realizzato o deriso, di mostrare il proprio bellissimo volto privo di ombre. È con cuore sincero e aperto che dico questo perché quando decisi di acquistare la tecnologia di luce pulsata di ultima generazione mai avrei pensato di appropriarmi di direi un erogatore di felicità. La luce pulsata è proprio questo perché gli uomini che trattano il petto e la schiena non diventano meno virili, anzi acquisiscono una sicurezza che li fa rinascere e con loro rinascono anche le emozioni più intime. Le donne quarantenni si sottraggono alla tristezza, direi io, dei peli bianchi e le ragazze, i ragazzi ventenni si garantiscono un futuro libero dei peli superti. Poter fare un lavoro che rende felici le persone lo ritengo un privilegio. Quindi ti saluto e ti do appuntamento al prossimo video. Ciao!